Buongiorno, ben ritrovati, appuntamento del venerdì, di venerdì 20 settembre 2019 con la nostra consueta rassegna stampa, mattino 6 che si apre come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, apriamo con il centro con l'edizione di Pescara per tornare a parlare dell'incidente accaduto tre giorni fa ad un bus della tua nel Pescarese in cui è rimasta ferita una ragazza in maniera grave, non resterai sola, parlano infatti docenti e compagni di scuola della 17enne ricoverata all'ospedale di Pescara. A Pescara ieri c'è stata l'assemblea a Palazzo di Città sulla nascita della grande Pescara, sulla fusione dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, si continua a discutere con pareri favorevoli e contrari. La politica regionale, primo bilancio della giunta Marsilio dopo sei mesi, noi facciamo fatti, non chiacchiere, ha detto ieri nella convention del Museo delle Genti il presidente del Regione Marco Marsilio che vedete nella foto con l'assessore Mauro Febo. Vediamo altre notizie, il bando delle Proloco, servizio civile, altri 66 posti e poi questa notizia che ci porta a Francavilla e malattie organizza sfilate assolto, Francavilla vigile, scagionato, il giudice la sua patologia richiedeva rapporti esterni. Vediamo altre notizie, Pescara il manager della ASL, Mancini licenziato, fa ricorso al giudice e poi ancora Pescara e il comune vuole cancellare la pista ciclabile di Viale Muzzi e poi il caso Antenne del 5G dopo le proteste, Montesilvano fa dietro front. Andiamo a vedere la prima pagina di Chieti, Lanciano Vasto, arrestato il maniaco con due lauree, Chieti, Manette e l'incubo delle studentesse, si denudava e le seguiva, questo è il titolo di apertura. E poi addio a Gian Sante, il signore delle auto stimato da Marchionne, imprenditoria teatina in lutto. Gian Sante aveva 84 anni, lo vedete in questa foto con Marchionne scomparso da qualche tempo, il manager abruzzese che ha portato in alto la Fiat. Vediamo le altre notizie, nelle cronache Chieti, alunni disabili con pochi fondi, oggi la protesta va in strada, Vasto, feste patronali tornarono in concerto dopo 17 anni. Ortona ex Interplast a Marcord per i primi 50 anni. E poi andiamo a Lanciano, vedete il titolo nella parte bassa della pagina, gli accusati non volevamo fargli male in caserma con i difensori, tre giovani indagati per la lesione all'orecchio del 17enne. Andiamo a vedere la prima pagina di Teramo del centro, fabbrica nuova, manca l'elettricità, siamo a Notaresco, salta l'inaugurazione della Cubo Design con 100 dipendenti. E poi si tiene dei familiari davanti alla Corte d'Appello, omicidio di Manuele Spinelli, confermata la condanna a 30 anni. Teramo, l'impresa, la scuola antisismica è quasi pronta, alba adriatica, nuove rotatorie sulla strada statale 16 adriatica, partono due cantieri e poi in basso, vediamo questo titolo che riguarda Roseto degli Abruzzi, il comune comincia l'iter per acquisire l'arena Quattro Palme. E poi la cronaca giudiziaria, ricattola ex con i video o sente, era mano a giudizio per stalking, alla donna diceva torna con me o pubblico tutto. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano Sulmona, sempre del centro, siamo all'Aquila, conservatorio ha scelto il direttore, eletto di Massimo Antonio, sede nell'ex Accademia a Collemaggio. E poi ieri da Avezzano, inaugurato il Parco dei Dinosauri, festa preistorica per i bambini. L'Aquila, per donanza, il comune paga un debito di 15 anni fa. E poi Avezzano, maxidebito, tremano 24 ex dirigenti del CAM. E poi Sulmona, la Marelli assume 5 studenti modello. Vediamo anche un'altra notizia in basso, alunni maltrattati prof nei guai, l'Aquila alla Procura lo accusa di aver picchiato alcuni ragazzi di una scuola media. Vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, il titolo di apertura riguarda la ASL di Pescara, Mancini via dalla ASL, per l'assessore Verino non ha raggiunto gli obiettivi, è approvata la decadenza dell'incarico, la difesa del PD, rimozione con modalità violente, aggressione per occupare, poltrone. E poi il bilancio, vedremo poi il servizio, dei primi sei mesi di governo del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsiglio, noi meglio di D'Alfonso. E poi, vedete questo titolo di spalla, trovata l'intesa, i rifiuti di Roma saranno smaltiti in Abruzzo. Vediamo altri titoli, centro pagina, torniamo all'incidente del bus, strada sotto accusa, Caprara nel tratto, ci sono stati altri incidenti. E poi, Prati di Tivo, nel Mirino c'è il gestore, impianti sabotati, l'ex direttore Riccioni, gli utenti non sono mai stati a rischio. Vediamo anche un altro titolo nella parte bassa della pagina, che ci porta sul Mona, detenuti, protesta per la discarica. Andiamo invece in alto per vedere altri argomenti, che poi ritroveremo all'interno del giornale. Tortoreto, Gancola, Ruspa, batte la colonina self del distributore a Tortoreto. Poi Chieti non era assenteista, il TAR riammette il professore dell'università. E poi il calcio serie B, il Delfino per ora non torna sul mercato. Parola del presidente, del patron Daniele Sebastiani. Vediamo anche il quotidiano La Città, sempre relativamente alla prima pagina, una regione che decide, il governatore Marco Marsiglio, traccia il bilancio dei primi sei mesi di governo. E poi vedete la fotonotizia, la teramana Lavinia sbanca Ex Factor, cantando Ivan Graziani. Vediamo poi le altre notizie. Gianni Morandi ha salvato il concorsone ASL al Palasca. Siamo a Teramo in questo caso, Roseto degli Abruzzi, Arena Quattropalme, acquisto da Ferrovie dello Stato più vicino. E poi il Teramo Basket, il teramano di Buonaventura, si veste d'azzurro e vola ai mondiali in Cina. Vediamo altri due titoli nella parte alta della prima pagina del quotidiano La Città. L'omicidio di Alba Adriatica in appello, giustizia per Manuel confermati 30 anni. E poi il caso Mastromauro, le indennità non andavano aumentate per essere tagliate. Questo è il titolo della prima pagina del quotidiano La Città. Tra poco torneremo a vedere le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Ora invece andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera, con il quotidiano milanese che in alto parla del Governo. Governo c'è un altro fronte, vedete il titolo, Di Battista attacca il PD, tensione nei 5 stelle, Conte no ai personalismi, stop del tesoro al Piano Costa, indagato il presidente di Open che finanziava la Leopolda. Vediamo poi a centro pagina quest'altra notizia drammatica che arriva da Catania, muore a due anni dimenticato in auto dal papà, l'uomo è un ricercatore. E poi vedete questa foto, la missione in 600 tra i ghiacci per studiare il clima, due italiane per l'operazione più a nord di sempre. Vediamo anche Repubblica, il partito di Renzi è come lo yogurt, intervista a Prodi, a scadenza ravvicinata, ma non lo occorrerà il Governo. C'è questa intervista all'ex presidente del Consiglio romano Prodi. E poi il fatto quotidiano, la casa di Renzi sotto inchiesta, vedete il titolo inquisito, il presidente della Open. E poi autostrade, parte lo scaricabarile sui mandanti dei report falsificati. Vediamo il manifesto, c'è poco da rider, in questo caso lo vedete, rider sfruttati sul lavoro e senza tutele nelle strade. L'inchiesta della Procura di Milano contro le piattaforme digitali che usano migranti irregolari per la consegna di cibo a domicilio, norme igieniche violate, si indaga anche per caporalato. Vediamo il mattino di Napoli, il Tesoro avverte i ministri, poche risorse e PIL in calo, bloccati il decreto su incentivi green e autoecologiche, mancano le coperture, il Governo dimezza le stime di crescita, Conte a Di Battista, mi fido del PD. E poi vedete a centropagina le interviste, in questo caso parla il tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Mancini, se giochiamo d'attacco come il Napoli andiamo lontano, questa Italia può vincere gli europei, ha detto il commissario tecnico azzurro, il messaggero, autoecologiche stop al decreto, il Tesoro blocca il piano sull'ambiente con incentivi e rottamazione, mancano le coperture, abbiamo visto prima lo stesso titolo dal mattino, e poi Roma, Zaniolo e Super, Disastro Lazio, Europa League 4 a 0 giallorosso, Inzaghi rimontato anche a Clugin, Romania 2 a 1 per la formazione romena, e poi domenica aperto lo shopping festivo che divide 5 stelle e Democratici, e poi ancora libero, ora basta, votiamo, siamo al caos totale, questo è il titolo di apertura, e poi messo in croce per un'intervista, anche Vespa oppresso dall'ordine dei giornalisti. Vediamo la verità, indagato l'uomo della cassaforte di Renzi, Bianchi accusato di traffico di influenze illecite, e poi vedete la foto di Battista, getta il cerino nella polveriera dei 5 stelle, Dem pericolosi, non fidatevi, e poi più in basso, clamorosi risultati dell'inchiesta sul Morandi, dal ponte di Genova, crollato dal 2013, nessun controllo sul ponte appunto, che poi purtroppo è crollato, causando diverse vittime. Vediamo anche il sole 24 ore, doppio bonus fiscale per la moneta elettronica, questo è il titolo di apertura, e poi le banche americane restano a corto di dollari. Vediamo anche il tempo, il manager che si regala l'aumento, capitale immorale, Stefano Brinchia, la guida di servizi per la mobilità, si autopromuove, e poi vedete controordine Gretini, il decreto green va in soffitta, vedete nella foto il ministro dell'Ambiente Costa, il presidente del Consiglio Conte. La stampa, la stampa di Torino, carige l'ora della verità, senza il salvataggio, parte la liquidazione, questo è il titolo di apertura del quotidiano torinese, e poi Milano, alunni senza mensa, mangiano sulla panca, in corridoio, vedete questa foto, secolo.it, ecco la politica, da oggi a domenica la festa della destra italiana, oggi Salvini, domani Orban, domenica la Meloni, il secolo XIX, carige vota il giorno della verità, in bilico, tra salvataggio e dissesto, e poi le autostrade Liguri, sempre più pericolose, dossier della Camera di Commercio di Genova, consegnato al ministro. Vediamo anche avvenire, su scuola e fondi, allarme disabili, le associazioni dicono, servono 5 miliardi, e mancano gli insegnanti di sostegno, e poi il reportage di avvenire, le bambine salvate del Bangladesh, e poi il caso ciclofattorini sfruttati, adesso scatta l'inchiesta, i PM di Milano ipotizzano anche violazioni delle norme, anti-infortuni e stradali. Lasciamo dunque l'edicola nazionale, abbiamo visto i titoli dei principali quotidiani, torniamo al centro, torniamo a parlare di notizie abruzzesi, e ripartiamo da pagina 2, per vedere cosa è accaduto ieri, al Museo delle Genti, la sala favetta del Museo delle Genti di Pescara, con la convention per i primi sei mesi del governo Marsilio, fatti e non chiacchiere isteriche, i primi 180 giorni di governo, la giunta risponde agli attacchi. Binance annunci anche effetto degli assessori Febbo, schipasso unico regionale, valido a Roccaraso e Ovindoli, a Prati di Tivo, passo Lanciano, e poi Liris a Pescara, una nuova sede unica della regione, sorgerà a Rancitelli per riqualificare la zona, e Campitelli punta a nuovi impianti per la valorizzazione dei rifiuti, e poi il governatore dà priorità alla ricostruzione post-sisma, risponde a Leognini e attacca ad Alfonso, ma alla convention non si presenta la scoccia, ed è rottura con l'Udc. Oggi, tal proposito, questa mattina ci sarà una conferenza a Pescara, dei vertici regionali dell'Udc, per parlare proprio di questa questione, dei rapporti ormai sempre più tesi, con la maggioranza di centro-destra. Lasciamo un attimo la politica con la convention di ieri al Museo dei Leggenti, poi vedremo anche un ampio servizio, vediamo invece quello che accade nella ASL di Pescara, dove è stato licenziato il direttore generale Armando Mancini, la giunta regionale decapita il vertice della ASL di Pescara per valutazioni negative, e il Mancini fa ricorso e il PD fa quadrato e difende l'ex direttore generale, parlando di una rimozione con modalità violente. E poi vedete, ieri c'è stata la convention per i primi sei mesi della giunta Marsilio, ma qualche minuto prima c'era stata una conferenza stampa, sempre a Pescara, dei vertici regionali del Partito Democratico, che avevano criticato proprio l'operato della giunta nei primi sei mesi, sei mesi solo a parlare di nomine, giudizio tranciante del capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci, dell'ex assessore regionale alle politiche agricole, Dino Pepe, da parte del segretario regionale del PD, Michele Fina. E poi vedete il segretario regionale dei DEM, lo scisma di Renzi, per me un errore, oggi vedremo tra l'altro un'intervista proprio col segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, proprio a tal proposito, su questo argomento, sullo scisma di Renzi e sulla nascita di un nuovo movimento politico fondato dall'ex presidente del Consiglio. Parliamo ancora di politica, il Movimento 5 Stelle parla Sara Marcozzi, consigliere regionale e capogruppo dei pentastellati in Regione, pensano alle poltrone, finora nessun fatto concreto, dunque critiche all'Aggiunta Marsiglio arrivano anche dal Movimento 5 Stelle. Cronaca ancora dalla Regione, si parla di servizio civile, nelle proloco ci sono a disposizione 66 posti, volontari guadagneranno 439 euro al mese, un rimborso spese se arrivano da fuori, ecco come presentare domande. e poi Mercatone 1, la vendita proposta a 136 società. E poi oggi a San Giovanni Teatino, torniamo alla politica, i giovani della Lega Confronto, cena di autofinanziamento in vista di Vitelliù e delle amministrative, dunque si pensa in Casa Lega, anche ai prossimi appuntamenti politici importanti, soprattutto a livello locale. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, le compagne della 17enne ferita nell'incidente dell'altro giorno ad un pullman tua a Caprara di Spoltore, le amiche dell'Istituto Alberghiero danno coraggio alla giovane ancora ricoverata in rianimazione, andremo a trovarla tutti insieme in ospedale, l'aiuteremo a studiare e non la lasceremo mai sola. Cinque incidenti su quella strada, parla il presidente della provincia di Pescara, Zaffiri, segnaletica e asfalto, però dice il presidente della provincia. Sono ok. L'unificazione tra i comuni, se ne è parlato ieri a Pescara, con diversi no alla fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, vedete anche il titolo, no alla fusione con Pescara, ha chiesto un nuovo referendum, Spoltore e Montesilvano continuano a fare resistenza e chiedono di modificare la legge regionale, Masci difende il voto del 2014, dobbiamo cogliere questa sfida e dare vita ad un'unica grande città. Dunque Pescara d'accordo sulla nascita del comune unico, gli altri due comuni, ovvero Montesilvano e Spoltore, sono di altro avviso. La pista contestata in centro, Comune e Commercianti, Viale Muzzi senza ciclabile, siamo sempre a Pescara, Foschi incontra i negozianti e chiede un nuovo piano, già chiuse, tre attività e intanto in bici al lavoro, torna questa mattina l'iniziativa della FIAB che calcolerà quanti ciclisti si recano al lavoro con le due ruote. Sanità, la campagna di prevenzione, migliaia di donne a piedi o di corsa per dire no al tumore al seno, al via oggi Rice for the Cure in piazza della Rinascita che culminerà nella gara di domenica mattina in campo le squadre delle imprenditrici, degli avvocati e del comune, consulenze gratis e convegni. E poi la cronaca giudiziaria Violentona Ragazzina deve scontare 14 anni arrestato dalla polizia. Andiamo ancora avanti, scuola blizza sorpresa nelle menze, controlli del comune nei refettori dove ci sono 3.700 iscritti, Santigli e il no al panino, solo 7 famiglie favorevoli. Proseguiamo, siamo a Montesilvano, dopo le proteste in via Basilicata stop alle contestate antenne del 5G dietro front dell'amministrazione comunale. Sempre a Montesilvano, dopo scuola il comune concede i locali degli istituti. Proseguiamo, tassa su rifiuti scontate alle aziende che donano il comune di Spoltore, incentiva la cessione delle eccellenze alimentari. Pianella, domani giornata del soccorritore in memoria di Andrea Pietrolungo. Andiamo ancora avanti, siamo a Montesilvano, nonna Ermilia, a 100 anni, cucina ancora per i nipoti. La centenaria di Villa Verrocchi è stata festeggiata ieri dai familiari e anche dal sindaco Ottavio De Martinis che, lo vedete nella foto, le ha consegnato una targa. Ricordo la cronaca, cade da un bancale, operaio in ospedale. È accaduto ieri mattina nel Pescarese. E poi Franca Villa al Mare, organizza sfilate, mentre in malattia vigile assolto. Nessun raggiro da parte del dipendente con la passione per la moda. Secondo il giudice, era affetto da una patologia che richiedeva rapporti esterni. Franca Villa al Mare, erosione. Padovano, presidente regionale della Sib, Confcommercio, scrive al presidente Marsilio per quanto riguarda gli interventi di ripascimento sul lungomare nella parte nord di Franca Villa al Mare. E poi ancora, siamo nel Pescarese, in Val Pescara, in questo caso, Santa Maria Arabona, lavori sulla strada fermi da cinque anni, il sindaco De Luca all'attacco. Basta in computer. E a Montebello di Bertona, fiaccolata e veglia per San Pio. Andiamo a centropagina, siamo nell'area Vestina, infiltrazioni ed erbacce. Il Marconi dipende nel degrado, questo è il titolo che si trova a centropagina. E poi in basso, torniamo in Val Pescara, tocco da Casauri, a feste patronali. Domani c'è Silvia, mezzanotte. Lasciamo anche questa pagina per proseguire e per spostarci alla prima pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, imprenditoria teatina in lutto. Addio a Gian Sante, il signore delle auto. L'imprenditore è scompasso a 84 anni. Marchionne entrò nella sua concessionaria, gli strinse la mano, qui mio padre compro la sua prima 500. Vedete proprio nella foto, la stretta di mano, nel 2007, tra Ennio Gian Sante e Sergio Marchionne. Vedete di fianco una copia della lettera di Marchionne proprio a Gian Sante. Andiamo avanti, siamo ancora a Chieti, la cronaca in questo caso, arrestato il manico con due lauree, è un uomo di 63 anni con problemi psichici, bloccava le ragazze in strada, poi si denudava, le seguiva fino a casa. Andiamo a vedere poi a centropagina Lanciano i denunciati non volevamo fargli del male in caserma con gli avvocati tre giovani accusati della lesione all'occhio di un 17enne e poi a basto vende la droga agli adolescenti preso dalla Polizia di Stato. Teramo la nuova fabbrica di cucine è bloccata perché salta la corrente, questo è il titolo che ci porta in questo caso a Notaresco, continui buchi di tensione l'industriale Arangiaro spesi 20 milioni per uno stabilimento digitalizzato e non si può inaugurare. Uccise Emanuele Spinelli confermati 30 anni omicidio di Alba Adriatica sentenza d'appello all'Aquila per il 27enne albanese e si tinde i familiari della vittima in tribunale. Andiamo ancora avanti siamo alle pagine della provincia di Teramo sempre dalle colonne del centro Atri Palazzo Cicada il sindaco mostra tutti i certificati Silvi la pista ciclabile farà sparire 60 pini il Conalpa chiede che il progetto venga cambiato siamo all'Aquila la pagina dell'Aquila del centro doppia novità il risico delle strutture Conservatorio Aquilano sede il nuovo direttore il terramano di Massimo Antonio batte lo sfidante Ciamacco e succede a Piermarini il CDA vuole lo stabile dell'ex Accademia è sempre all'Aquila l'Ateneo 20.000 borracce gratis a studenti docenti e personale questa la campagna antiplastica e poi ricercatore Aquilano protagonista a Torino Benedetti in un gruppo che studia come migliorare la vita di pazienti con malformazioni cerebrali andiamo ancora avanti Avezzano festa con gli alunni ragazzi delle scuole per il parco dei dinosauri che apre ai bimbi con il ruggito di Terex vedete nella foto e poi l'Aquila cronaca giudiziaria alunni maltrattati prof finisce sotto inchiesta Sulmona Lamarelli assume 5 studenti meritevoli dell'istituto industriale di Pratola Peligna siamo arrivati allo sport allora prima di parlare di sport andiamo a vedere le pagine interne le prime pagine interne dell'inserto abruzzo del messaggero torniamo a parlare e questa volta lo faremo anche con un corredo di due servizi della politica regionale ieri come dicevamo prima la convention del centrodestra a Pescara per i primi sei mesi di governo per un bilancio dei primi 180 giorni di attività produttività superiore ad Alfonso lo ha detto il presidente Marsiglio abbiamo lavorato 4-5 volte di più del precedente governo regionale dalla ricostruzione al Gran Sasso ecco i risultati che abbiamo ottenuto vedete nella foto le immagini della convention di ieri erano presenti tutti gli assessori della giunta regionale e tanti amministratori locali di centrodestra allora possiamo andare a vedere il servizio in cui il nostro Giuseppe Dintino fa il punto proprio dei sei mesi di governo Marsiglio proprio con le parole del governatore vediamo una conferenza stampa scenografica quella indetta questa mattina a Pescara dal presidente della regione Marco Marsiglio alla presenza dei giornalisti e di gran parte dei politici abruzzesi di centrodestra la giunta regionale al completo ha raccontato i primi sei mesi di governo Marsiglio si è sottoposto alle domande della stampa toccando punto per punto le principali questioni che interessano la politica abruzzese a partire ovviamente dalla ricostruzione post sisma che procede a rilento sulla ricostruzione stiamo moltiplicando il lavoro e il numero di personale a disposizione degli uffici già oggi la produttività dell'ufficio della ricostruzione che gestisce direttamente la regione Abruzzo è 4 o 5 volte superiore a quella che abbiamo trovato grazie anche al fatto che abbiamo stanziato fondi nostri non abbiamo atteso soltanto che il governo ci riconoscesse quello che è dovuto e che ancora non è arrivato nelle misure davvero sufficienti il governatore ha toccato anche il tema sanità e delle nomine vertici delle ASL e del dipartimento regionale sulla sanità stiamo provvedendo al normale ricambio delle direzioni generali oltre che del direttore del dipartimento la squadra da questo punto di vista si sta componendo ed è quasi completa in dirittura di arrivo questo ci consentirà di avere una sintonia con i dirigenti delle ASL una sintonia di progettualità che è assolutamente necessaria per poter raggiungere gli obiettivi ancora accesa la questione del trasporto pubblico dopo che il presidente di TUA Gianfranco Giuliente ha annunciato il taglio di 2 milioni e mezzo di fondi regionali non stiamo tagliando un bel niente stiamo semmai salvaguardando TUA e il trasporto pubblico abruzzese da politiche come dire scellerate di spese fuori controllo che avrebbero portato e porterebbero presto la TUA al fallimento se non adottassimo le misure che stiamo adottando di razionalizzazione e di riorganizzazione della struttura per il presidente Marsilio la giunta regionale è una squadra coesa ed efficiente il retroscena però è un po' più complesso quest'estate infatti si era sfiorata la crisi di governo quando la Lega decise di mostrare i muscoli pretendendo più poteri in giunta ed è ancora da sciogliere il nodo Udc che rimane con un piede in maggioranza e uno fuori l'Udc ha avuto come sapete bene senza che ricostruiamo tutte le volte la storia il torto di candidare una persona senza il consenso di tutto il resto della coalizione dopodiché questa persona è stata eletta ha dichiarato di voler sostenere la maggioranza in maniera leale e corretta anche perché ricordo che è eletta grazie al premio di maggioranza e grazie al fatto che esiste una maggioranza di cui faceva parte lo ha fatto fino ad oggi in maniera sostanzialmente corretta quindi io non ho nulla da addebitare o imputare al comportamento di Marianna Scocia che il Consiglio regionale ha sempre votato con la maggioranza e i provvedimenti che la maggioranza e che il Consiglio che sono stati portati in Consiglio regionale quindi da questo punto di vista io penso che se il comportamento continuerà ad essere reciprocamente corretto non esistono problemi o difficoltà poi c'è qualcuno che ogni tanto li vuole creare per carità li affronteremo siamo abbastanza avvezzi alla politica per capire anche questi meccanismi che non sorprendono nulla di nuovo sotto il cielo queste le parole del Presidente della Regione Marco Marsilio nella convention di ieri convention che è seguita di qualche minuto alla conferenza stampa del centro-sinistra in particolare del Partito Democratico che con i vertici regionali ha criticato invece l'operato della Giunta Marsilio in questi primi 180 giorni vedete il titolo in basso su Asle Ospedali e Trasporti non avete preso nessuna decisione il Partito Democratico ha parlato di giunta lenta di giunta ferma lo ha fatto in una conferenza stampa che come detto si era tenuta poco prima della convention di Marsilio sempre a Pescara allora andiamo a vedere anche in questo caso il servizio i rappresentanti del Partito Democratico abruzzese bocciano senza se senza mai i primi sei mesi di attività della Giunta regionale guidata da Marco Marsilio dalla Giunta lenta si è passati alla Giunta ferma hanno spiegato questa mattina il capogruppo in Consiglio regionale Silvio Paolucci l'ex assessore all'agricoltura Dino Pepe ed il segretario regionale del Partito Michele Fina sanità trasporti caccia pesca queste le note più negative sei mesi a discutere di nomine non si ricorda un atto di programmazione non si ricorda una legge significativa che non sia stata osservata Marsilio risponde molto spesso agli appelli della Meloni e di Salvini si mette molto i panni e nei panni del parlamentare dell'opposizione ma non svolge il ruolo di Presidente di Regione la sanità ha teso sei mesi per i manager non vi è un piano approvato è blocco delle assunzioni nulla si dice attorno agli investimenti degli ospedali per quanto riguarda i trasporti rischiamo l'affidamento in house attua entro il 3 dicembre di quest'anno rischiamo di non poter affidare le tratte attualmente in concessione studenti a terra mezzi fermi personale non assunto cerella in default per quanto riguarda la caccia abbiamo il calendario venatorio bloccato unica regione d'Italia fondi fermi per l'agricoltura e per le piccole e medie imprese e nessuna visione dell'economia del lavoro della parte dello sviluppo legato al turismo della strategia della trasversalità della portualità delle infrastrutture unica nota positiva le risorse che noi lasciamo nel bilancio quando arrivamo nel 2014 abbiamo dovuto anticipare 140 milioni di Euro perché mancavano vi era una inconsistenza di cassa attualmente abbiamo lasciato 500 milioni che hanno giustamente adoperato per anticipare gli investimenti che però noi portammo a casa con il master plan con la giunta d'Alfonso e il presidente del consiglio Renzi ci chiediamo quali sono dopo sei mesi le risorse vostre di questo governo regionale aggiuntive che avete portato all'Abruzzo zero e queste le parole del capogruppo in consiglio regionale del PD Silvio Paolucci noi ci fermiamo per qualche istante tra poco torneremo di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 ed eccoci di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 abbiamo visto i servizi due servizi che hanno riguardato la politica regionale con quanto accaduto ieri a Pescara restiamo in un certo senso in argomento parliamo delle cronache dalle nostre province partiamo da Pescara vedete Asl la regione ha licenziato Mancini ieri la delibera della giunta regionale che risolve il rapporto con due anni di anticipo bando per trovare il nuovo manager della Asl pescarese decisione tecnica e non politica alla luce dei bassi punteggi leggerò la delibera e farò ricorso ha detto il direttore uscente che vedete nella foto e poi Nuova Pescara Spoltore lancia il referendum bis ieri c'è stata l'assemblea costitutiva a Pescara in Palazzo di Città nel corso di una assemblea anche piuttosto accesa nei toni con Montesilvano e Spoltore che continuano a criticare la nascita della grande Pescara e poi vedete in basso anche sul messaggero c'è la notizia dell'addio a Enio Gianzante il re dei motori e ieri cerimonia funebre in ospedale per l'ultimo saluto per il funerale al primario Luigi Mosca tanti medici infermieri presenti a questo all'ultimo saluto al primario dell'ospedale di Pescara andiamo avanti villaggio della salute piazza salotto in rosa per Race for the Cure al via questo pomeriggio la tre giorni organizzata da Come in Italia screening e conferenze per prevenire e curare i tumori femminili proseguiamo siamo alla notizia che ci riporta l'incidente del bus tua a Caprara ad Abruzzo c'è un'inchiesta l'inchiesta che punta sui due conducenti l'incidente di martedì sul bus dei pendolari la procura dispone perizie per valutare la velocità dell'audi e lo stato del mezzo della tua stabili le condizioni di Rosanna la più grave dei 30 ferite una gamba semi amputata e fratture in varie parti del corpo e migliora il rider coinvolto in uno scontro a Pescara l'altra sera in via di sotto sempre a Pescara la pista ciclabile contestata via Muzzi crociata dei commercianti da Pescara ci spostiamo a Montesilvano via Basilicata niente antenna trattativa per le altre zone e poi la cronaca giudiziaria violentò la nipotina vedete in basso sconterà 14 anni siamo la pagina dell'Aquila del messaggero scuole addio direzioni didattiche arrivano gli istituti comprensivi la rete dell'istruzione divisa in sei comparti il più importante e il patini con 1.209 studenti e poi munda il bilancio superata la quota dei 5.000 visitatori e poi la sentenza operaio morto due le persone condannate andiamo avanti cultura senza spazi scatta l'allarme la Baratelli presenta un cartellone da 40 e 20 chiusura affidata al violoncellista Uto Ugi nel concerto che si terrà a maggio decennale arrivano 100 ciclisti una maratona di 142 chilometri che si concluderà all'Aquila e poi il ricordo dell'ecidio del 43 tante iniziative per i nuovi i nuovi martiri aquilani proseguiamo siamo alla pagina dell'area marsicana e della valle Peligna partiamo da Avezzano il CAM chiesti danni per 18 milioni si tratta di ex amministratori ed ex sindaci dei revisori dei conti del consorzio acquedottistico della Marsica il periodo contestato va dal 2008 al 2017 non avrebbero sorvegliato sulla perdita totale del patrimonio sociale vediamo ancora Avezzano apre il parco giochi arriva subito la pioggia Sulmona Menzana incorpore sano con tanti esperti e poi a centro pagina ancora Sulmona i miasmi della discarica mettono in crisi i detenuti della locale casa circondariale Avezzano Scurcole Magliano nuova viabilità nella zona proprio dell'Avezzanese poi Pescasseroli e pace tra il comune e i nobili Sipari infine Celano parte l'invito a tutti i celanesi nel mondo per una importante iniziativa che riguarderà la cittadina marsicana Siamo alla pagina di Chieti del messaggero Saggini Stravince Altar l'università paga le spese accolto infatti il ricorso del professore universitario accusato di assenteismo e poi sospeso per un anno secondo i giudici la d'annunzio si è limitata a riprodurre la segnalazione di 29 studenti Dava fastidio alle studentesse arrestato molestatore seriale sempre a Chieti e sempre a Chieti Shail ha incontrato il comitato dei sindaci incontro che si è tenuto alla ASL di Chieti Lanciano Vasto Emanuel Così mi hanno picchiato siamo a Lanciano il ragazzo ferito gravemente all'occhio sentito ieri in caserma i tre denunciati molto giovani rischiano fino a sette anni di carcere a 14 cucciolo di cane pastore salvato dalla polizia sul tratto autostradale Vastese ancora Vasto droga per gli adolescenti arrestato 48enne Ortona vicenda della Baia Catleia il sindaco contrattacca siamo la pagina di Teramo via Longo scempio e degrado proteste e problema sicurezza dopo il rinvenimento di buste con resti putrefatti di animali il quartiere si ribella presi due aggressori lite per motivi di droga l'indagine di Teramo sveggiato con una bottiglia di vetro è stato colpito al viso e oggi sarà operato stalking violenza sessuale 69enne rinviato a giudizio e poi a Castiglione Messerremondo il sindaco dice studenti senza autobus questo il grido d'allarme del primo cittadino Manuel ucciso 30 anni in appello confermata la condanna all'albanese accusato di aver sferrato due coltellate al giovane Spinelli la sentenza presso la corte d'appello in un clima di tensione con una manifestazione di associazioni che si battevano per avere una pena certa Giulianova tenta furto al ristorante cileno solo denunciato e poi sempre a Giulianova violento temporale abbatte una palma sempre in agguato il punteruolo rosso a Pietracamela l'ex direttore Goffi sabotaggi al gestore secondo caso di cavi tagliati negli impianti sciistici di Prati di Tivo e poi la cronaca vedete in basso ci porta a Tortoreto in tre con la Ruspa sradicano colonnina self del distributore andiamo a vedere in questo caso le pagine dello sport sport di cui parleremo fra pochissimo perché dobbiamo andare a leggere insieme le pagine interne del quotidiano la città partiamo da pagina 3 il consumo di suolo rischiamo di diventare una regione grigia WWF architetti lanciano infatti l'allarme sui dati ISPRA servono azioni serie a livello legislativo e amministrativo l'emergenza altre 4.000 tonnellate al mese di rifiuti romani verso l'Abruzzo e poi col diretti chiede una legge sui reati agroalimentari frodi dell'olio intervento dopo la truffa scoperta dal NAS sei mesi di governo rivendico una regione con la forza di decidere la giunta Marsiglio ha fatto ieri il punto a Pescara dei primi 180 giorni abbiamo visto prima il servizio da giunta lenta giunta ferma il controcanto preventivo del PD sull'iniziativa della giunta Marsiglio anche in questo caso vi abbiamo proposto un servizio andiamo avanti siamo a Teramo il concorsone della ASL Gianni Morandi in soccorso del Palasca per insoronizzare la prova di migliaia di candidati utilizzate le attrezzature del concerto della Popolare di Bari Sanità Ercole d'Annunzio è l'ultimo capo dipartimento il primario della medicina legale sarà capo del dipartimento del prevenzione Lavinia Alex Factor 4 sì la sedicenne Teramano accede al bot camp della trasmissione Sky cantando Ivan Graziani indimenticato cantautore Teramano politica PD piglia tutto sulle nomine il partito socialista minaccia la rottura e poi è vera emergenza siamo a Teramo per le case parcheggio dopo anni aggiornate le graduatorie dell'emergenza abitativa comunale 93 domande 63 accolte 4 le case disponibili e intanto in Bialongo c'è un degrado secondo i residenti Bialongo che è sempre secondo i residenti gli abitanti della zona deve essere assolutamente riqualificata il Movimento 5 Stelle riapre la politica delle buche la capogruppo in consiglio comunale a Teramo Ciammariconi segnala disagi a Sparazzano secciola e Colle atterrato Zennaro capogruppo del Movimento 5 Stelle tra le barbe finte l'onorevole pentastellato da componente diventa il vertice del Movimento 5 Stelle della commissione sui servizi segreti del Copasir Isola del Gran Sasso Slalom nella giungla per arrivare al santuario Erbaccia incuria rifiuti e degrado lungo il collegamento pedonale tra i megaparcheggi ed il luogo sacro Valle Castellana Provinciale 52 chiusa da troppo tempo e a chiedersi il perché il consigliere comunale di Valle Castellana ed ex sindaco Vincenzo Esposito che vedete nella foto siamo a Castiglione Castiglione Messerraimondo di servizi per gli studenti il sindaco scrive alla tua da quattro giorni in tanti non sono riusciti ad arrivare a scuola siamo in Val Vibrata Alba Adriatica l'appello conferma la condanna per Coldasci pena di 30 anni e 8 mesi per l'albanese che accoltello a morte Emanuele Spinelli sul lungomare di Alba Adriatica Tortoreto vedete la notizia con corredo di foto sradicata la colonnina del distributore banda in azione con una ruspa lungo la bonifica del Salinello Martinsicuro riprendono gli incontri tra amministrazione comunale e comitati siamo alla pagina di Giulianova del quotidiano La Città le indennità non potevano essere aumentate arriva il parere della Corte dei Conti sul caso che ha riguardato le ex giunte di Francesco Mastromauro e ancora Giulianova la ditta chiede 173 mila euro per i lavori all'Orsini il comune si oppone al ricorso presentato dalla cura terra fallimentare di Sfera e poi Giulianova vedete in basso rende omaggio al maestro Gaetano Braga laboratori didattici incontro con proiezione e omaggio musicale al tramonto siamo la pagina di Roseto degli Abruzzi Arena Quattropalme acquisto più vicino incontro ieri a Roma tra il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo e i divertici delle ferrovie dello Stato sempre a Roseto questa mattina ci saranno i funerali di padre Giacomo Raineri il sacerdote itinerante scomparso mercoledì scorso e a Pineto ricordare l'importanza dell'ospitalità attraverso la lettura dell'Odissea un pubblico emozionato ha fatto infatti da cornice all'incontro di lettura di alcuni brani che si è tenuto presso la torre di Cerrano tornando a Roseto allarme e degrado le segnalazioni dei cittadini nella zona nord e lungo la statale 150 raccolte dal gruppo di Casa Civica vedete alcune foto e poi Roseto al centro scritta l'ennesima pagina nera sui servizi sociali il gruppo di minoranza interviene infatti sulla chiusura del centro per minori di Montepagano chiedendo un consiglio comunale siamo alla pagina della cultura Leone l'intellettuale antifascista Dorsi racconta la vita di Gisburg che fu confinato a Pizzoli e dunque nella nostra regione siamo così arrivati alle pagine dello sport che apriamo come sempre con i titoli di Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport e Tutto Sport partiamo dalla Gazzetta chi è Mister Derby si parla ovviamente della sfida in programma domani sera a San Siro del derby della Madonnina tra Milan e Inter e vedete nella foto i due Mister Derby da una parte Marco Giampaolo tecnico dei Rossoneri dall'altra Antonio Conte allenatore dell'Inter e poi Europa League Dzeko Zaniolo la Roma vola e batte 4 a 0 i turchi del Bakeshkir e poi invece l'altra romana battuta in Romania Rebus Lazio che succede con il Clugi un altro KO vediamo il Corriere dello Sport Juvo Luzione vedete il titolo che gioca sulla parola Juventus la metamorfosi incompleta di Sarri Sarri che ha sostituito sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri che vedete nella foto questo abbraccio tra l'attuale tecnico della Juventus e l'ex allenatore dei bianconeri vediamo anche Tutto Sport Juve così puoi vincere la Champions parla Fabio Capello e in alto i tifosi caricano il Torino Sampdoria Ferrero non molla e poi vedete Derby Derby della Madonnina Sensi e Rebic Milan Inter al contrario grande attesa per la sfida di domani tra Rosso Neri e Nerazzurri e siamo allo Sport dalle pagine dei quotidiani locali partiamo dal centro centro che parla anche del Derby di domani sera tra Milan e Inter Conte verso il primo derby il Milan per sfatare il tabù e poi vedete le gare di Europa League delle romane che si sono giocate ieri flop Lazio battuta in Romania dal Clugi per 2 a 1 Roma che vince senza problemi in casa con il Bakashir per 4 a 0 vediamo anche la prossima pagina che ci porta a parlare del Pescara nella marcia di avvicinamento alla gara di domani quarta giornata di andata all'Adriatico con la Virtus Entella ripeto io all'Entella il mio derby dei ricordi il direttore sportivo del Delfino nato a due passi da Chiavari casa mia era dall'altra parte del fiume lavoravo su un peschereccio e che risse nelle gare di pallannuoto contro il Lavagna Zauri pensa Castanos Playmaker e Drudi al centro della difesa Pescara che sarà rimaneggiato nella sfida di domani con i Liguri perché non ci saranno gli infortunati e sono tanti ma soprattutto Tuminello che sarà fuori quasi fino al termine della stagione mancherà anche Palmiero e non ci sarà neanche Campagnaro a sostituire Palmiero dovrebbe essere Castanos Drudi al centro della difesa confermato probabilmente in coppia con Scogna Miglio in avanti dovrebbe essere il posto di Tuminello dovrebbe essere assegnato a Brunori e vediamo da questo specchietto le gare della quarta giornata del campionato di Serie B Frosinone Venezia Benevento Cosenza Cremonese Crotone Empoli Cittadella Iubestabia Ascoli Livorno Pordenone Pescara Virtusentella Spezia Perugia Chievo Pisa Trapani Salernitana questa sera l'anticipo del 21 sarà quello che vedrà di fronte Frosinone e Venezia e poi andiamo in basso parliamo anche del Pescara Primavera Caccia al Blitz con la Lazio e Bebi di Le Grottaglie domani in trasferta a Roma non ci sarà Tringali che è squalificato vediamo la pagina della Serie C il Teramo Tedino ora arriva il bello voglio un Teramo Tosto il Diavolo sfida il Rende si giocherà domani sul neutro di Vibo Valencia l'allenatore carica i Biancorossi lavoriamo per avvicinarci al Big vediamo anche il messaggero mercato Pescara è ok e non torna sul mercato lo ha detto il presidente Sebastiani anche i nostri microfoni proprio l'altra sera in occasione della presentazione del trofeo Matteotti e poi Zauri blinda all'allenamento non si può steccare in casa lavori a porte chiuse per preparare la sfida con la Virtus Entella andiamo in basso calcio a 5 Acqua e Sapone si parte in trasferta ad Arzignano il Civitella domani in casa contro la matricola Campobasso matricola da temere siamo anche alla pallacanestro al basket di Buonaventura ai mondiali 3x3 la Bruzzese Oro a Teramo convocato nell'Under 23 ringrazio dice di Buonaventura il coach Capobianco vediamo la seconda pagina di sport del messaggero poi torneremo sul centro e andremo a vedere anche il quotidiano la città Teramo in questo girone non sei da prima fascia l'analisi di mister Tedino un conto è giocare in trasferta a Imola un conto è affrontare squadre già attrezzate per puntare alla serie B intanto i bianco-rossi sono partiti già per la Calabria formazione dubbio in mediana tra LASIC e Santoro vediamo anche la serie D Chieti secondo dobbiamo ringraziare Patron Trevisan e poi Lavastese al completo pronta per la sfida di Campobasso Avezzano D'Alessandro non ci sono acquirenti seri per l'Avezzano dice il Patron Bianco Verde torniamo al centro il titolo leggermente diverso da quello del torniamo al messaggero sì scusate al centro dicevo titolo leggermente diverso da quello che abbiamo visto qualche istante fa perché spunta un gruppo Laziale per quanto riguarda l'acquisto dell'Avezzano il club Marsicano potrebbe dunque cambiare proprietà l'imprenditore Quattrociocchi interessato a rilevare la società leggiamo in questo articolo recupero di eccellenza Torrese Nereto si giocherà il 2 ottobre poi calcio a 5 parte la Serie A la Quessapone sfida il Real Arzignano vediamo l'altra pagina di sport calcio femminile una famiglia nel pallone il chieti è la nostra vita la storia dei Di Camillo le sorelle Giulia Neomamma e Giada in campo insieme e poi Cicalè bomber senza età a 41 anni mi diverto ancora vedete nella foto l'attaccante del Real Bellante in basso Fiucci la nuova promessa del Pescara a 14 anni e già in prima squadra il presidente Cicconi è un talento la ragazza di Moscufo in evidenza con i biancazzurri e poi la neopromessa Nardulli la veterana delle Free Girl il portiere si divide tra campo e lavoro a 44 anni dice mi tengo in forma e siamo alla pagina che riguarda gli altri sport sempre dal centro il basket in alto Roseto batte latina e si aggiudica il Lido delle Rose 66 a 61 la vittoria degli Sharks con i Pontini l'Ital Regui verso i mondiali c'è anche Riccioni domenica l'esordio con la Namibia il pilone terramano della Benetton spera di essere impiegato in basso pallacanestro e motori parliamo dell'Adriatica Press Teramo Ordini saluta e arriva forte Teramo formazione teramana molto attiva sul mercato e poi parliamo di motori Siv Superbike il pescarese d'annunzio domani correrà al Mugello e andiamo a vedere per chiudere prima di chiudere la pagina dello sport le pagine dello sport che riguardano il quotidiano la città partiamo ovviamente parlando del Teramo lavoro e pazienza per la prima fascia il tecnico dei Biancorossi Tedino fa le carte al Girone C cinque squadre favorite il Teramo può arrivarci con il sacrificio ha detto il tecnico Biancorosso che vedete nella foto in basso parliamo di Volley Bluitali Pineto al fianco di Pasquali arriva Giuseppe Bosica ufficiale anche il calendario delle amichevoli pre-season si parte questa sera alle 20 contro Osimo chiusura con Macerata vediamo l'altra pagina di sport del quotidiano la città prima di salutarci di Buonaventura si veste d'azzurro e vuole i mondiali l'atleta del Teramo basket è stato convocato per la rassegna in Cina e poi lo spazio del centro sportivo italiano maratona se zampe per combattere il randagismo e poi Brio ex indimenticato difensore della Juventus ospite della convention di presentazione della stagione sportiva siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 20 settembre con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio come sempre Claudio Di Giacomo per la regia ringrazio voi per averci seguito a proposito di sport vi ricordo gli appuntamenti della domenica sarà una domenica a tutto sport per quanto riguarda la nostra emittente perché ci sarà da seguire il trofeo Matteotti tutte le partite del campionato di serie D e sabato domani invece il consueto appuntamento con Diretta Stadio per seguire insieme la partita che si giocherà lo stadio Adriatico tra Pescara e Virtus Entella per quanto concerne invece l'informazione della nostra rete vi rimando alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie ancora e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti